Ciao a tutti dal salutatore, eccoci qui allo stadio Tre Fontane con Fede e Luce Vicepresidente Marco Pesce e Fabio Colantoni Spero che vi siate divertiti 3 a 2 contro una nazionale forte, nazionale italiana attori Cazzuissime, molto cazzuini ragazzi Vabbè, questa la tagliamo Ci sta tutta l'emozione, il cuore Comunque è stata una bellissima giornata, ci siamo divertiti tantissimo Ritorniamo comunque con il secondo posto Ecco, che non è poco, anzi è tantissimo E ha vinto il cuore per tutti quanti Ricordiamo il sito dove vi trovano tutti quanti E io vi ringrazio, completi e tutto E salutiamo tutti i fan Fede e Luce Ciao Ciao ragazzi